questo mondo estremamente crudele ma anche ma anche bellissimo la mia è stata una bella vita ma come ormai pensavo di essermi arresa come mai? mi sto rialzando perché continuo a lottare a quale scopo? a questo punto vivere non ha più senso allora cos'è che mi fa reagire? battiti! 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 Eren battiti! non stare a guardare! battiti! battiti! perdonami Eren io non mi arrenderò mai più non mi arrenderò mai più perché in quel caso non sarei più degna di stare al tuo fianco e perciò continuerò a battermi e non morirò così ma che succede? un gigante che uccide un altro gigante un altro gigante Grazie a tutti.